Si torna a parlare delle scuole come Movimento 5 Stelle e chiedete assolutamente la messa in sicurezza a stretto giro di tutte le scuole del capoluogo e se tornate a chiedere un consiglio straordinario. Noi vogliamo una risposta chiara, immediata per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole. Basta con la politica dello struzzo, la quale viene applicata dai nostri rappresentanti anche in provincia e in altri luoghi. Noi stiamo proponendo una soluzione organica per dare una risposta immediata. Noi vogliamo che il sindaco richieda subito questi moduli scolastici provvisori, nell'intervallo in cui vengano montati chiediamo un decreto legge, un provvedimento di urgenza del governo che renda facoltativo il rientro a scuola. Perché capiamo anche le ansie di chi ha paura di mandare i propri figli in edifici che non hanno neanche la verifica di vulnerabilità sismica. In quanto una volta arrivati questi MUSP sicuramente ci sarà una tranquillità nel rientro a scuola. Poi chiediamo un consiglio straordinario per istituire una commissione speciale per quanto riguarda la ricostruzione scolastica, con la partecipazione anche di rappresentanti tecnici dei genitori, per programmare nuovi poli scolastici, nuovi edifici, anche casette in legno per esempio, di pronta costruzione, per dare una risposta chiara e definitiva della questione. Basta interventi tamponi, basta spendere soldi per strutture che evidentemente non possono essere adeguate sismicamente, stiamo solo buttando soldi pubblici in questo modo e il governo deve sanziare i soldi, in quanto se trova 10 milioni di euro per la funicolare che colleghi con l'eparco alla villa, oppure 97 milioni di euro per una coppa di golf, li troverà sicuramente, li deve trovare per la sicurezza dei nostri figli e la sicurezza delle scuole e dell'intera collettività che si trova in zona 1 o in zona 2 di sismicità. In previsione c'è anche una manifestazione da poter organizzare proprio a Roma davanti a Palazzo Chigi. Se le nostre richieste non verranno esaudite, ovviamente l'unica arma che ci rimane è quella della manifestazione pubblica in cui coinvolgeremo tutte le forze politiche e tutti i cittadini perché bisogna portare la voce di Teramo a livello nazionale, ora di muoversi e ora di puntare i piedi in maniera forte e decisa.